Ad Adano è in corso i lavori per gli interventi di rigenerazione urbana, lavori che cambieranno il volto del centro cittadino e non solo, ma che stanno incidendo notevolmente sulla viabilità. Per questa ragione si sta pensando anche ad altre modifiche sulla circolazione stradale in centro, anche in vista di altri eventi, per esempio quelli legati alle manifestazioni natalizie che si svolgeranno in Piazza Umberto. E a proposito di eventi ce n'è in programma un altro in primavera a carattere nazionale che si svolgerà all'arena dell'Etna, sappiamo che si chiama l'Ortolana di Adano, una sorta di grande vetrina sui prodotti agricoli, ma per adesso il sindaco parla dei progetti in corso. C'è un problema viabilità e al riguardo vuole lanciare l'ennesimo appello agli adreniti. Sì, un supplemento di pazienza dove invito ancora una volta a utilizzare il mezzo, soprattutto la macchina, quando è proprio indispensabile. Abituiamoci a camminare a piedi oppure a utilizzare magari insieme a parenti e amici per accompagnare i ragazzi a scuola il cosiddetto car sharing per appunto diminuire il flusso. Noi ci siamo attrezzati con il comando di polizia municipale per anche un'eventuale nuova viabilità che stiamo sperimentando. Passando da via Inserilli dovremmo cambiare senso di marcia e lo stesso dovrebbe accadere per via Carlo Macros e via Canonico-Bascetta, che sono, abbiamo visto, i punti più nevralgici dove c'è una congestione maggiore rispetto ad altri punti appunto della città. E' chiaro che siamo ancora al 20% di tutte le opere pubbliche che abbiamo già finanziato e dove i lavori partiranno anche per tantissime altre opere pubbliche e che incidono fortemente sul traffico. Sto pensando a via Casale dei Greci e sto pensando agli altri cinque cantieri della mitigazione che riguardano dal Cappellone a Contrada Fogliuta altri cantieri molto importanti. E' un passo che la città doveva fare. Dovevamo rivoluzionare quello che per 40 anni è stata una stasi di opere pubbliche. Purtroppo, devo dire, o forse piacevolmente abbiamo avuto questa fortuna di avere dei collaboratori sia all'interno che all'esterno dell'ente. Abbiamo raggiunto questi grandi risultati. Chiedo ai cittadini di avere pazienza ma tra due anni i nostri occhi saranno pieni di bellezza. Si lavora anche per altri eventi. A proposito di viabilità, fra qualche settimana verrà chiusa anche Piazza Umberto per le manifestazioni legate al Natale. Sì, l'assessore Scardina sta lavorando a un Natale così come lo sappiamo fare, nel migliore dei modi, a favore delle famiglie, dei bambini, di tutte quelle persone che verranno a passare il Natale con i loro cari qui nella nostra città. Sarà anche un modo per visitare questa città e dove il centro storico sarà addobbato veramente a festa e con degli spettacoli molto particolari partendo dall'8 dicembre che ci sarà l'inaugurazione dell'albero di Natale così come avviene da due anni. Il centro storico nei giorni nevralgici, cioè dal venerdì sera alla domenica sera, sarà chiuso al traffico, diventerà un'isola pedonale a favore delle famiglie, dei bambini, degli anziani, di tutte quelle persone che vogliono sentire proprio quello che è l'atmosfera natalizia. Per quanto riguarda i cinque interventi sulla rigenerazione urbana, si lavora a pieno regime in tutti i cantieri o c'è qualche stop momentaneo? No, no, c'è pieno regime, c'è qualche rallentamento dovuto alle interferenze, soprattutto ACOSET ci ha richiesto di cambiare tutte le linee idriche che sono nei sottoservizi in modo da innovare e di avere assolutamente anche un servizio idrico molto più efficace rispetto a quello che non è stato cambiato per moltissimi anni, quindi i lavori stanno andando avanti nel migliore dei modi. È prevista anche per oggi una riunione con tutti i direttori dei lavori e i responsabili unici del procedimento perché seguiamo giornalmente quello che è il cronoprogramma che deve essere rispettato perché al di là di fare le opere pubbliche si devono poi eseguire e eseguire il migliore dei modi. Sindaco, in Gandieri ci sono altri interventi sulle strade cittadine? Abbiamo quasi completato il secondo step, stiamo facendo un altro investimento di circa 300 mila euro, ci saranno altre strade urbane ed extraurbane per il 2023 e poi nel 2024 continueremo con questo restyling anche del manto stradale che c'era assolutamente bisogno perché abbiamo trovato una città anche per colpa di qualche cittadino che ha ritenuto di far da sé e ha lasciato veramente delle strade distrutte ovunque il nostro dovere è piano piano di ripristinarle nel miglior modo possibile.